Sarà molto contento che sua madre arrivi dalla Cina per darle una mano, Mingli Fu? Oh sì! Mamma Essel è molto gentile! Io non sono molto in forma per accoglierla, purtroppo. L'ommagine no problema! Mamma Essel è davvero fatta in medicina cinese! Mamma! Ottimo, direi. Prenderemo in ostaggio la madre del lavandaio per tagliare la corda. Una vecchia signora? Ma è immorale! Sì, ma andremo piano. E nessuno si muove o faccio secca la vecchia! Si dice, faccio secca la signora! Mamma! Figlioletti miei! Sei la più forte, mamma! Non è vero! Questa madre ha preso mia madre a tradimento, ma è mia mamma la più forte! Fa pure compu! Se vuoi sapere dove ho rinchiuso tua madre, sai bene cosa devi fare. Cara signora, avrei tanto bisogno di quella famosa seduta di agopuntura. Ma mamma di chi è che ha bisogno di personale extra in lavanda Elia! Lei aveva visto quattro fratelli molto esperti! Sì, sì, faccia come vuole. Ma mi metta gli aghi, per favore! Grazie! Grazie! Che buon odore! Sono lasagne, vero? Bravo! 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 Hai fatto davvero un pessimo lavoro, l'azza di incapace! Signora Golder! Giù! Bentista! È giunto il momento di dar fuoco alle polveri! Chi ti ha autorizzato a prenderla? A me! A me! Dalla a me! A me! È vero! No, mamma! È vero! No! Dalla a me! No! Mammina l'ha data a me! È tutta mia! Presa! Con i fratelli Dalton a volte mi domando che ci stiamo a fare! Ci serve decisamente un piano! Un buon piano! Perché sono stufo di fare a botte con quel danetto plepotente e maleducato! Calmatevi voi due! Giù! Corra là! Allora! Chi ha un'idea? Io! 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 Everelle! Attraverseremo il fiume sott'acqua grazie a queste canne! Un'altra idea? Noi abbiamo un'altra idea! Io ho un'altra idea! Non interrompere i tuoi fratelli, giù! Viene! Adesso decido io! Rientrate! Io mi armo fino ai denti e prendo d'assalto il penitenziario! La signora va di sicuro a prendere quel famoso piatto! Ma non vi ho ancora detto la mia idea! Mi sta offrendo gli spaghetti! Ma io adoro gli spaghetti! Eccola mamma! Quando cammina fa uno strano rumore, vero? Saranno tutti quegli aghi che si porta dietro! Che nessuno si muova! Venite! Ah! Stavolta è fatta! Ma il dindele è la pelle del panda prima di averlo abbattuto! Mamma! Guarda, guarda, rieccola! Tua madre non ha nessuna chance contro la mia! Mia madre sa fare kung fu! Ma questo non è un concorso di cucina! Guarda, Joe! Dal carcere in cui eri inchiusa, la mamma ci ha mandato delle lime! Joe, se vuoi che i vestiti non ti facciano più grattare, fai uno sforzo, chiedi scusa a Ming Lee Fu! Un Dalton non chiede mai scusa! No, ma si gratta! Esattamente! Un dalton non chiede mai scusa! Un dalton non chiede mai scusa! Un dalton non chiede mai scusa!